podler dallo splendido parigi le illusioni mi diceva l'amico sono forse innumerevoli come i rapporti degli uomini tra loro o degli uomini con le cose e quando l'illusione scompare quando vediamo cioè l'essere o il fatto così come esiste fuori di noi proviamo uno strano sentimento complicato metà di rimpianto per il fantasma scomparso metà di gradevole sorpresa davanti alla novità davanti al fatto reale se c'è fenomeno vivente triviale sempre identico e di natura da non poterci si sbagliare è l'amor materno supporre una madre senza amor materno è difficile come supporre una luce senza calore non è quindi perfettamente legittimo attribuire all'amor materno tutte le azioni e parole d'una madre rispetto al suo bambino tuttavia ascoltate questa storiella nella quale sono stato singolarmente mistificato dalla più naturale delle illusioni la mia professione di pittore mi spinge a guardare attentamente le facce le fisionomie che mi si offrono per strada e sapete che piacere noi caviamo da cotesta facoltà che fa ai nostri occhi più viva e più espressiva la vita che per gli altri uomini nel quartiere fuori mano dove abito e dove vasti spazi erbosi ancora separano gli edifici avevo osservato spesso un bambino la cui fisionomia ardente e vispa più di ogni altra mi aveva subito sedotto più di una volta mi era stato modello l'avevo trasformato a volte in zingarello a volte in angelo a volte in amore mitologico gli avevo fatto reggere il violino del vagabondo e la corona di spine e i chiodi della passione e la fiaccola di eros insomma mi ero innamorato a tal segno della grazia arguta di cotesto monello che un bel giorno pregai i suoi genitori povera gente di affidarmelo impegnandomi a vestirlo bene a dargli qualche soldo e a non imporgli altra fatica che non quella di pulirmi i pennelli e di farmi le commissioni il ragazzo si fece grazioso una volta pulito e la vita che menava con me gli pareva un paradiso rispetto a quella che avrebbe dovuto sopportare nella catapecchia paterna però devo dire che quello mettino mi stupì talvolta con singolari crisi di tristezza precoce e che subito manifestò un gusto smodato per lo zucchero e i liquori così che il giorno in cui dovetti constatare che nonostante i ripetuti avvertimenti aveva ancora commesso un furterello del genere lo minacciai di rimandarlo dai suoi genitori poi uscì e vari impegni mi trattennero piuttosto a lungo fuori di casa quali non furono il mio orrore e il mio stupore quando rincasando il primo oggetto che colpì il mio sguardo fu il ragazzino malizioso compagno della mia vita impiccato a questo armadio coi piedi toccava quasi l'impiantito gli stava accanto rovesciata una sedia che egli certo aveva respinto col piede aveva la testa convulsamente china su una spalla il viso gonfio e gli occhi sbarrati spaventosamente fissi mi diedero sulle prime l'illusione della vita staccarlo non fu un'impresa facile come potrebbe parere era già irrigidito e mi ripugnava stranamente farlo cascare di colpo a terra bisognava che lo sostenessi di peso con un braccio e che con la mano dell'altro tagliassi la corda ma fatto tanto ancora non era finita il mostriciatolo aveva adoperato una cordicella assai sottile che gli era entrata profondamente nelle carni e ora bisognava con sottili forbici tirarla fuori per liberargli il collo ho tralasciato di dirvi che avevo prontamente chiamato aiuto ma tutti i vicini si erano rifiutati di darmi una mano fedeli in questo al costume dell'uomo civile che non vuole mai intervenire chissà perché negli affari di un impiccato finalmente venne un medico il quale dichiarò che il ragazzo era morto da varie ore quando poi dovemmo spogliarlo per il funerale la rigidità cadaverica era tale che non sperando di poter piegare le membra dovemmo stracciare e tagliare gli abiti per toglierli il commissario al quale naturalmente dovetti dichiarare l'accidente mi guardò di traverso e disse è un affare losco mosso certamente da un desiderio inveterato e da un'abitudine del suo stato di fare cioè paura a buon conto agli innocenti come ai colpevoli rimaneva da compiere un dovere supremo il cui solo pensiero bastava a darmi una tremenda angoscia bisognava avvertire i genitori i piedi si rifiutavano di portarmici infine trovai il coraggio necessario ma con mio gran stupore la madre restò impassibile non una lacrima le trapelò dall'angolo dell'occhio attribuì cotesta stranezza all'orrore stesso che la poveretta doveva provare e mi ricordai del noto detto i dolori più tremendi sono i dolori muti quanto al padre si limitò a dirmi con aria tra bruttita e assente dopo tutto forse è meglio così sarebbe comunque finito male frattanto il cadavere era steso sul mio divano assistito da una serva attendevo agli estremi preparativi quando la madre entrò nello studio diceva di voler vedere il cadavere di suo figlio in verità non potevo impedire che si inebriasse della sua sciagura e negarle cotesta suprema e cupa consolazione poi mi pregò di indicarle il posto dove il suo piccino s'era impiccato oh no signora dei risposi vi farebbe male e quasi involontariamente gli occhi andandomi al funebre armadio mi avvidi con un disgusto misto d'orrore di collera che il chiodo restava infisso nella parete con un lungo pezzo di corda che ancora dondolava mi slanciai subito per strappare coteste ultime tracce della sciagura e stavo per buttarle fuori dalla finestra aperta quando la povera donna mi afferrò il braccio e con voce irresistibile mi disse oh signore lasciatemela ve ne prego ve ne supplico certo la disperazione l'aveva fatta talmente uscire di senno mi parve che ora si inteneriva e innamorava di quello che era stato strumento di morte per suo figlio e lo voleva conservare come un'orrenda e cara reliquia e afferrò il chiodo e la corda finalmente tutto era compiuto non mi rimaneva altro che rimettermi al lavoro anche più intensamente del solito per scacciare a poco a poco quel cadaverino che mi ossessionava i meandri del cervello e cui fantasma mi stancava con i grandi occhi sbarrati ma il giorno dopo ricevetti un mazzo di lettere alcune dei miei coinquilini altre delle case vicine una del primo piano l'altra del secondo l'altra del terzo e così via alcune in stile semiserio quasi cercassero di dissimulare sotto un'apparenza scherzosa la sincerità della richiesta altre goffamente sfrontate e scorrette ma tutte intese all'identico scopo di ottenere cioè un pezzo della funesta e beatificata corda tra i firmatari c'erano devo dirlo più donne che uomini ma nessuno credetemi apparteneva al ceto infimo e volgare ho conservato quelle lettere e allora d'un tratto mi si fece luce nel cervello e capii perchè la madre ci tenesse tanto a strapparmi la corda e con che commercio si proponesse di consolarsi si si si